Ciao ragazzi, bentrovati. È appena uscita la nuova versione beta di Home Assistant, quella di aprile, che andiamo immediatamente a scoprire. Allora, come vedete io l'ho già installata, la versione di aprile. Questa versione non porta grosse migliorie e cambiamenti. Adesso le andremo a vedere insieme. Allora, prima di tutto è stata introdotta una nuova grafica, anche per la parte di centrale di allarme. Ovvero, adesso vi faccio vedere cosa intendo. Se noi andiamo a vedere in ulteriori informazioni un qualsiasi alarm control panel, troveremo la possibilità di modificare le varie opzioni direttamente da qua. Piuttosto che la stessa cosa è stata introdotta anche per le tapparelle, che a questo punto sarà possibile direttamente controllare con lo slider. Qui, quindi qualsiasi tipo di cover, di oggetto cover. Stessa cosa per i purificatori. Quindi anche i purificatori avranno la possibilità di avere un menu dedicato e di aspetto ben più gradevole. Quindi li stanno in sostanza cambiando tutti. Avevo iniziato con la precedente versione con alcuni oggetti, adesso pian piano li stanno uniformando tutti. Un'altra novità sono le cosiddette tile card, che nello specifico tradotte in italiano sarebbero queste. Ovvero vi faccio vedere le carte mosaico, queste, che hanno, diciamo un po', io lo chiamo copiato da Mushroom, dall'estensione Mushroom di Axe, che è possibile installare in Axe. E cosa abbiamo in questa versione di nuovo per quanto riguarda appunto queste queste carte? Abbiamo la possibilità, ad esempio sempre sulla parte allarme, di aggiungere nelle funzionalità i modi degli allarme, quindi di averli qua sotto, come potete vedere. E andare anche in personalizzazione a togliere quelli che ad esempio non ci interessano. Tutto questo poi sarà possibile anche metterlo ad esempio in verticale per renderla un po' più gradevole, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo questa funzionalità delle carte mosaico, tile card, sia per quanto riguarda le allarmi, sia per quanto riguarda anche la parte di fan. Quindi purificatori piuttosto che ventilatori. Ok, quindi queste sono le altre modifiche che hanno fatto appunto alle carte mosaico. Poi, passando oltre, hanno introdotto le macro, questa è una cosa un po' più avanzata, hanno introdotto le macro sui modelli. Quindi andiamo a vedere. Quindi ci sarà la possibilità di definire una cartella che andremo ad esempio a chiamare Custom Template. Al di sotto potremo andare a inserire una macro template in Jinja. Quindi, ad esempio, questa nel momento in cui, come potete vedere qua, ho dichiarato la mia presa della cucina sarà attiva. Qua in automatico andrà a scrivere la nome presa della cucina Friendly Name. Quindi la presa della cucina 0 è accesa, scriverà direttamente. E qua se sarà on metterà on, nel caso contrario metterà sì, nel caso contrario metterà no. Ok, e qua ho terminato la mia macro. Per poi poter utilizzare questa macro all'interno appunto della mia dashboard, ci basterà andare ad esempio definire, in questo caso io ho definito un markdown e andare a chiamare con questo codice appunto la nostra macro. Quindi andrò ad importare dal tool punto Jinja, cioè il mio file inserito nella cartella che abbiamo visto prima, l'evento is on e poi andrò a dirgli se is on, questa appunto presa, vai a stamparmi tutto quello che c'è scritto dall'altra parte. Quindi questo è un'altra importante novità che è stata introdotta con questa versione. Come vi dicevo non ce ne sono tante altre, sono state introdotte un po' di function per la parte di template, di modelli, quindi è diciamo possibile ad esempio utilizzare una nuova funzione che è la isIdentEntity che va a restituirti se un'entità è stata nascosta o meno. Questa è una nuova funzione che è stata introdotta, piuttosto che anche la nuova funzione Areas. Poi sono stati aggiunti nei cicli di loop la possibilità di utilizzare il break e il continue, come un classico linguaggio di programmazione. E l'ultima funzione nuova è la isValue che ti dice se appunto è un valore o meno oppure una stringa in sostanza, nello specifico ti dice se è un valore. Poi a livello invece di ottimizzazione di home assistente di sistema è stato reso più veloce, sono stati migliorati sicuramente anche la parte di dB, l'Io sul disco è stato ridotto così questo avvantaggerà le schede SD e c'è sicuramente anche un avvio più rapido. Altre funzionalità degne di nota non ce ne sono, come vi ho detto all'inizio è una versione, chiamiamola un po' povera, di novità. Sono stati ovviamente corretti una serie di bug, non ci sono breaking change da segnalare e sono state aggiunte circa quattro nuove integrazioni e nello specifico l'on-seer, il quadrafile, il vermo casting e le zero on-wire. Sono, vabbè, diciamo tutte integrazioni che potete trovare comunque nella history di rilascio di home assistant, cosa nello specifico fanno, ma diciamo non sono poi così degne di nota. Con questo, ragazzi, è tutto, è stato un breve video, spero che vi possa aiutare per decidere o meno se andare a fare l'upgrade del vostro home assistant. Quindi ci vediamo alla prossima volta, lasciateci un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le modifiche di home assistant. Grazie, alla prossima, ciao ragazzi! Grazie a tutti!